Rocco Fredella, i sospetti di Gianni Sperti sono confermati Il puttiferio in rete dopo la notizia sulla nuova relazione Rocco Fredella, come tutti gli appassionati di uomini e donne sanno, ha abbandonato il programma Proprio qualche settimana fa, il Cavaliere del Trono Over ha deciso di andare via e lo ha comunicato tra le lacrime Ha accusato Gemma di essere la prima causa della sua scelta, ha ammesso di essere rimasto lì solo per lei Ha più volte tentato di ripristinare i rapporti ma non è mai riuscito e dato che la dama non sembra essere più intenzionata a proseguire non ha senso rimanere seduto Queste sono state le motivazioni date dal Cavaliere, che ci si creda o no Gemma Galgani è stata da subito attaccata da tutti perché di è fatta scappare un uomo che difficilmente le ricapiterà L'unico a non darle contro è stato Gianni Sperti che invece ha avuto qualche dubbio sin da subito Qualcosa gli puzzava, aveva io sospetto ci fosse un'altra motivazione sotto e in effetti non si sbagliava mica Subito dopo aver lasciato Mediaset infatti Rocco Fredella ha presentato la sua attuale donna Il pubblico non ci sta e ha iniziato ad offenderlo dicendogli che ha preso in giro Gemma, che quando usciva con lei usciva già con la donna con cui sta adesso Ricco Fredella si è subito difeso dicendo che il loro amore è nato non appena lasciati gli studi Mediaset Che si è trattato di un colpo di fulmine e che solo adesso può dire di essere davvero felice Rocco Fredella felice di fianco alla sua anima gemella Cosa pensa Rocco della nuova donna? Che è l'amore della sua vita, l'anima gemella che aspettava da tempo Non ci sperava più in realtà ed è vero che quando meno te lo aspetti la vita ti stupisce Il cavaliere non ha alcun pentimento per quanto riguarda il passato, ciò che è stato fatto, è stato fatto con il cuore Adesso Rocco ha voglia di guardare avanti e basta, è molto stanco delle polemiche ma pensa che lasciano il tempo che trovano Quando ci si comporta bene la coscienza è pulita e tutto ciò che sta intorno continua ad essere contorno e null'altro Non ci sono prove che Rocco e la nuova fiamma di conoscessero già da prima dell'addio alla trasmissione, ci possono essere dubbi e sospetti ma non certezze in merito Gianni Sperti potrebbe avere ragione ma non avremo mai alcuna conferma o smentita Chissà se questa nuova storia continuerà o verrà troncata a breve Lui appare molto felice e soprattutto convinto di aver fatto la scelta giusta, vedremo come si evolveranno le cose nel tempo .